Amici software libero open source benvenuti o bentornati in questo nuovo video andremo a fare adesso una installazione rapida di KDE Plasma 6 che è appena stato annunciato e di cui vi ho parlato sulle pagine del blog perché il ragionamento è appena arrivato anche su KDE Neon nella versione stabile. Mi ho appena fatto il ragionamento quindi adesso lo scopriremo assieme e vi farò una reaction a caldo di KDE Plasma 6. Adesso mettiamo in download e ci aggiorniamo fra poco non appena finirà di scaricare e installare il tutto. A dopo. Rieccoci qui dopo aver installato KDE Plasma e dopo avergli dato un rapido sguardo per vedere quali sono i bug che si incontrano al momento zero dell'installazione e ovviamente perché mi viene da ridere perché chi sta trovando tutti questi bug strani li sto trovando io ma andiamo con ordine andiamo a vedere innanzitutto come si consta come come appare il primo video KDE Plasma 6. La novità più importante che potete vedere dallo schermo è ovviamente il nuovo pannello con le finestre flottanti che donano diciamo così un look più moderno al sistema. A me piace molto questo effetto. Ovviamente ovviamente vi faccio vedere un'altra cosa il pannello con le finestre flottanti scompare quando andiamo a massimizzare una finestra quindi non è che ce lo teniamo sempre flottante. Questa cosa per esempio avrei preferita diversa magari avrei preferito che mantenessero l'effetto l'effetto pannello flottante anche con le finestre massimizzate però effettivamente forse per una questione di coerenza grafica vabbè hanno deciso di optare per una soluzione di questo tipo. Se però non vi aggrada poi il pannello flottante potete comunque andare nelle impostazioni del pannello e disattivare il pannello flottante tramite l'apposito flag quindi lo potete disattivare. Qui possiamo vedere anche una rapida ropita di sguardo alle altre impostazioni del pannello che è molto molto razionale vi fa vedere subito con delle piccole iconcine che cosa andiamo a fare che cosa andiamo a modificare cliccando sui vari parametri quindi l'allineamento l'impostazione della posizione la larghezza la visibilità l'opacità e lo stile quindi davvero niente male sotto livello personalizzazione sotto questo punto di vista. Torniamo indietro annulliamo. Un'altra cosa che ci tengo a precisare che al primo avvio mi sono ritrovato la sessione Wayland preimpostata come sessione predefinita d'altronde è una delle novità di KDE Plasma 6 oltre all'arrivo dell'EQT 6.0 e lo sto utilizzando adesso con KDE Plasma con scheda video Nvidia. Vedo che la fluidità è molto buona ci sono qualche c'è qualche piccola incertezza che ogni tanto vedo con icone che vanno a sovrapporsi qua sotto nella barra del pannello mi è capitato un paio di volte prima che si confondessero le icone qui che ne so di Firefox e di OBS che andavano a sovrapporsi e che non funzionavano non rispondevano cioè cliccavo su Firefox mi usciva OBS o viceversa ma questo credo che sia un piccolo bug di gioventù l'altro bug che ho riscontrato è che se avvio la sessione X11 trovo delle incertezze nelle animazioni almeno nel mio caso con la mia configurazione con driver Nvidia proprietari devo vedere successivamente magari se aggiorno i driver l'ultima versione se questi problemi sulla sessione X11 si risolvono. Vediamo poi adesso le altre novità di questa versione che come vi trovate qui elencate sul blog c'è il supporto parziale per l'HDR quindi per gli schermi che supportano questa tecnologia un nuovo effetto panoramica desktop che combina panoramica e griglia desktop adesso mettiamo due o tre cose così ecco come funziona adesso l'effetto ovviamente c'è possibile aggiungere un desktop spostare roba sull'altro desktop virtuale in questo caso non è funzionato facciamo subito vediamo un po' ecco qua quindi passaggio vedete le animazioni sono davvero molto fluide adesso prendo anche la tastiera per vedere un po' con il touch vedete come si comporta una vecchia tastiera della Microsoft con touch mi sa che i gesti vanno configurati perché di default non prende quei gesti fighi di altri sistemi comunque magari questo ne vedrò di parlarne in un approfondimento successivo sì sì mi piace ovviamente come avete visto modo di vedere una volta che siamo andati ad aggiungere un secondo desktop virtuale qui comparirà in basso a sinistra un'iconcina che ci consente di spostarci tra i desktop virtuali se non ci piace che lo vogliamo togliere clicchiamo qui e lo eliminiamo altra novità è l'alt tab che è stato rinnovato adesso mi sembra che funziona anche meglio più carino non come prima che compariva sulla sinistra che effettivamente non era tanto carino da vedersi quali sono le altre novità vabbè un tema breeze rinnovato magari ve lo faccio vedere sul qui direttamente quali sono le novità del tema breeze perché qui c'è un confronto tra la versione vecchia e la versione nuova che hanno fornito gli sviluppatori sì è stato un look migliore più moderno effettivamente un po' più meno anzi no più o meno stiamo qui diciamo che hanno cambiato la disposizione delle icone le scritte con più o meno sono uguali non vedo novità vanno forse modificato un po' i padding ma nemmeno perché mi sembra che sì leggermente i padding quindi c'è leggermente più spazio nelle impostazioni di sistema le impostazioni di sistema sono state riorganizzate andiamo a vedere quali sono le novità ecco quindi hanno razionalizzato un po' i vari gruppi delle varie funzionalità delle impostazioni di sistema andiamo a vedere che ne so qualcosa riguardante i temi diciamo a dargli uno sguardo temi 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 dove stanno i temi qui possiamo vedere i temi la visuale ad albero sulla sinistra la console data dove possiamo andare a modificare tutte le impostazioni sui temi mi piace questa disposizione lo trovo un menu più più carino da vedersi più funzionale qui nel frattempo vi faccio vedere le specifiche la versione di plasma è la 6.0 il framework 6.0 e le Qt 6.6.2 con su KDN in questo momento mi trovo con i kernel Linux 6.5 e driver Nvidia non mi ricordo che versione questo è una versione un po' vecchiotta di driver Nvidia perché aveva un bug con una KD con la vecchia versione che verificherò se è presente anche con questa ma di questo ovviamente ne parleremo nei video successivi sono soltanto delle considerazioni a caldo su questa nuova versione di KD e plasma il cubo è tornato ecco è tornato l'effetto cubo l'unico problema è che io non riesco a far funzionare l'effetto cubo io adesso vi faccio vedere se io cerco effetti allora innanzitutto l'effetto cubo va abilitato perché di default non è abilitato la scorciatoia è meta C quindi tasto la bandierina di Windows e il tasto C però non funziona o è qualche impostazione che devo disattivare devo usare qualche altro tipo di effetto prima di attivare l'effetto cubo devo andare a vedere un po' la documentazione perché di default se io vado a abilitare l'effetto cubo non mi dice di disattivare niente quindi presuppongo in questo caso che non devo andare a disattivare niente per abilitare l'effetto cubo devo soltanto abilitare l'effetto cubo però non vedo diciamo forse no ma non ci sta sovrapposizione nemmeno di scorciatoie quindi devo analizzare un po' questa cosa ho detto anche che altri hanno problemi con l'effetto cubo e non sono riuscito a farlo funzionare questa è una cosa da approfondire anche perché l'effetto cubo vedete quanto è carino fra tanto anni anni 2000 le prime versioni di vi ricordate che era presente su Compiz quante persone abbiamo convertito noi a Linux grazie all'effetto cubo adesso possiamo convertirne due o tre perché queste cose non vanno più di modo però loro hanno reintrodotto ma non so perché la ricerca di plasma permette di fare una ricerca filtrando i risultati questa è anche una cosa carina che è stata aggiunta altre novità riguardano maggiore velocità e quantato quindi non è che ma sotto il cofano dobbiamo vedere un po' analizzandolo sul lungo periodo in Dolphin vediamo Dolphin che è il file manager come possiamo leggere qui che cosa è stata aggiunta vediamo un po' oltre a una riprogettazione complessiva di Dolphin le impostazioni hanno ricevuto una cura particolare sono state riorganizzate per migliorare la navigazione sono presenti anche miglioramenti in termini di accessibilità i pulsanti nella barra degli strumenti e lo spazio sul disco nella barra di stato sono accessibili la tastiera premendo il tasto F10 per aprire il menu principale e Shift e F10 per aprire il menu contestuale vediamo se funziona così li smentiamo subito in diretto se è trovato il parca non funziona e quindi va bene ci sono delle scorciatoie nuove che fanno possono essere sempre utili per quanto riguarda chi ama muoversi con le scorciatoie da tastiera vediamo nelle impostazioni se c'è qualcosa di nuovo mi sembra che questa cosa con le schedine così non c'era prima però potrei sbagliare perché qua ci vado molto molto di rado nelle impostazioni ah un'altra novità delle impostazioni di Dolphin che adesso finalmente hanno capito di aver fatto una cavolata in passato adesso il comportamento di default per l'esplorazione dei file con Dolphin è un click del mouse selezioniamo la cartella doppio click possiamo aprire come tutti quanti i principali sistemi operativi che stanno che stanno in circolazione non so perché si ostinavano quelli di KDA a mettere l'apertura con il singolo click vabbè sono cosello rivista d'albero Spectacle che sarebbe utili per gli screenshot anche lui ha ricevuto alcuni miglioramenti NeoChat Client Matrix di KDA questo non lo utilizzerò mai vabbè voi lo utilizzate fatemi sapere PlasmaTube è un client YouTube che chissà se è possibile installare vediamo se è presente nei repositi così lo andiamo subito a installare anzi lo andiamo a Dolphin scusate no come caro chi si chiama vabbè Discover anche qui Discover è stato ridisegnato mi sembra perché non me lo ricordavo così anche in questo caso se dico in certezza correggeremi perché io apro così di rado strumenti come i software center perché di solito installo tutto da tastiera e quindi potrei essermi perso questa novità andiamo a cercare questo PlasmaTube e vediamo se è presente in questo caso nei repository di presente nei repository di KDAI Neon ecco questa è la schermata installazione andiamo a vedere un po' questa applicazione che è interessante avere un client YouTube senza dover aprire il browser vediamo un po' se è installato e seguiamo andiamo a vedere allora aggiungi se gente PlasmaTube chiede almeno una cellulina di video ah ma allora non apre mi sono ah no YouTube però non vedo la possibilità di aprire di aprire YouTube vedo soltanto le sorgenti PureTube e videos non vedo la sorgente YouTube perché non vedo la sorgente YouTube chissà perché vabbè mettiamo un'altra sorgente andiamo a vedere che ne sono una di Peertube andiamo a vedere questa qua il CNR quindi la faccia è carina questo di di Peertube però non vedo la possibilità di aprire la sorgente YouTube vediamo se sbaglio io da qualche parte che non vedo io niente e questo è da approfondire perché io vedo che è un client is a YouTube client quindi dovrei poter aprire anche il YouTube forse forse bisogna aprire un altro account su un video vabbè approfondiremo anche di questo questo che cos'è un altro software che è stato messo per quando guarda che cos'è per porto il tuo postale la piattaforma in rete sociale federata Mastodon puoi leggere pubblicare e inviare facilmente messaggi quindi per Mastodon interessante anche questa ovviamente questa va installata a parte migliormente in Kate Kate come voi chiamare editor di testo anche se io di solito utilizzo altro devo ammettere però per le operazioni base se non siete tanto tanto esigenti va più che bene leggiamo un po' e gli aqua che sono state fatte dei miglioramenti quindi l'editor cioè l'emulatore di terminale e quindi quello anche la comparsa che c'è più che c'è più kd connect questo lo devo testare perché soprattutto con le ultime versioni vi dico anche quest'altra cosa perché sapete bene che i bug mi amano con kd connect non so voi ma io ultimamente stavo avendo problemi con lo show me perché non mi funzionava correttamente devo verificare se è un problema della versione compilata presente all'interno dei repository di kd neon oppure dipende da altro pure di questo vi farò magari un approfondimento successivamente abbiamo poi un lettore di podcast questo deve essere interessante il lettore musicale lì sono stati anche miglioramenti che dire che dire adesso lo devo utilizzare un po' devo un po' la capezzaccia e capire un po' di anzi devo capire principalmente se i bug che sto riscontrando in questi momenti sono stati bug che sono stati già segnalati o se affliggono soltanto il sottoscritto perché come vi dicevo ho trovato alcuni bug prima nel pannello che si andava a incartare un altro bug che ho trovato è che mi sembra strano che non sia stato segnalato e devo verificare anche in questo caso se è un problema della mia configurazione oppure un bug presente già segnalato da altri e mi stupisce che però è un bug che non è stato corretto perché se io vado a dare che ne so il riavvia come potete vedere non funziona non mi fa riavviare non mi fa a cambiare utente si ok ci sono spero che sia continuato a registrare cambiare utente me lo farò fare però non mi fa fare che ne so io chiudi sessione che non funziona quindi devo verificare un po' ah facciamo subito cambiando da avviatore applicazione a quest'altro che ne so cruscotto applicazioni vediamo se il problema è presente soltanto qui ah no no è presente anche lì con l'altro quindi devo anche in questo caso capire un po' la situazione che dire nei prossimi giorni vi ne parlerò maggiormente di KDA Plasma 6 questo è soltanto un video che vi fa vedere un po' le sensazioni a caldo vi fa vedere i bug che sto trovando fatemi sapere anche voi se avete installato KDA Neon se avete aggiornato KDA Plasma 6 se ritrovate gli stessi bug o nel vostro caso l'installazione andata liscia è perfetta e soprattutto fatemi sapere se voi siete riusciti ad attivare subito il simpaticissimo effetto cubo che come potete vedere nel mio caso non funziona correttamente vedremo vedremo nei prossimi giorni con altri approfondimenti vi ripeto restate sintonizzati sulle pagine del blog restate sintonizzati sul canale YouTube lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo un prossimo video ciao ciao